Se ti svegli la mattina, continui a stare coricato, scrolli su TikTok, video dopo video dopo video, passi da un'app all'altra, la sera prima la stessa cosa prima di dormire, addirittura stai dormendo col telefono attaccato alla tua faccia perché ti sei dormentato col telefono in mano la sera prima e ti alzi dal letto quindi dopo due ore che stai al telefono, dopo due ore che ti sei effettivamente svegliato, allora questo video fa per te. Innanzitutto mi presento, sono Branfi, in questo canale parlo di crescita personale, business e soldi, ti voglio premettere che questo video non sarà editato in quanto non do priorità all'intrattenimento ma do priorità alle informazioni, voglio che resti perché trovi di immenso valore le informazioni e non perché ti sto intrattenendo. Io una volta mi alzavo, mi svegliavo effettivamente ma prima di alzarmi dal letto passavano ore, letteralmente ore e sembravano interminabili perché guardavo l'orologio e dicevo ah ma sono passate solo dieci minuti, mi sembra un'ora, vabbè allora posso stare ancora un po' coricato e volevo alzarmi, è come se trovassi una forza contraria al fatto che volessi alzarmi, che mi tenesse incollato al letto. Non so come spiegarti ma sicuramente se hai vissuto questa sensazione lo sai benissimo. Anche se mi alzavo continuavo a procrastinare, mi mettevo davanti al pc, ascoltavo della musica, guardavo qualche video, andavo a giocare all'aps4, andavo in giro con gli amici a cazzeggiare. Procrastinavo perché sapevo che dovevo allenarmi, sapevo che dovevo fare le abitudini positive ma non ne facevo nessuna. Sapevo che dovevo inseguire i miei obiettivi, che avevo delle azioni da fare per inseguire quegli obiettivi, però non riuscivo a farle costantemente, la facevo un giorno e poi mi andavo tutto a puttane. Bene ti dirò una cosa che nessuno ti ha mai detto ed è il motivo focale, il motivo principale del perché procrastini. E quando io l'ho scoperto e ho applicato delle diciamo accortezze per far sì che questo motivo non influisse molto sulla mia procrastinazione, sulla mia vita, appunto ho smesso di procrastinare. Adesso come vedi sto registrando questi video, sto facendo un contenuto al giorno che è tantissimo, cioè ci impiego veramente tanto tempo, nonostante non stia vedendo tanti risultati, perché appunto per vedere i risultati deve passare tantissimo tempo dove non li ottengo e so che poi li otterrò. Ma io adesso sto facendo questo lavoro semplicemente per disciplina, perché non mi andrebbe di farlo, mi andrebbe di uscire, giocare, andare in giro. Potrei procrastinare ma non lo sto più facendo. Bene, qual è questa cosa che mi ha fatto completamente cambiare la mia vita? Qual è il motivo principale del perché stai procrastinando? Il motivo principale è che hai il testosterone basso. Il testosterone è un ormone steroideo e questo ormone diciamo senza entrare in tecnicismi, senza parlare a livello medico, è l'ormone maschile per eccellenza, è l'ormone che diciamo è indice della tua mascolinità. Una volta i nostri antenati migliaia e migliaia di anni fa avevano un testosterone altissimo, infatti riuscivano a sbranare le prede crude, avevano una stretta di mano. Adesso se stringi la mano a qualsiasi persona in giro ti sembra che veramente stai stringendo la mano di una femmina. Se stringi la mano di un uomo non riesci realmente a stringere la mano. Se tu stringessi la mano a una persona vissuta in questa terra centomila anni fa te la distruggerebbe, proprio te la spezzerebbe in mille pezzi. Invece al giorno d'oggi la media di testosterone, anzi il testosterone è accettato proprio se vai in un centro per farti le analisi, dai 300 nanogrammi su millilitro cubo ai mille. Quando se hai 300 sei pari a una femmina. E loro dicono no, no, vabbè, valori normali. Se hai 300 di testosterone sei una femmina. Ovviamente scientificamente non sei una femmina, però capisci bene che una volta avevano 3000-4000 di testosterone, adesso 300 è bassissimo. E tutto questo per gli estrogeni che fanno sì che si abbassi il testosterone. Quindi l'ambiente in cui viviamo pieno di plastica ha portato che i nuovi figli, noi, nascessimo con un testosterone così basso. Il fatto che le ragazze usano la pillola anticoncezionale che è piena di estrogeni e poi fanno la pipì nel bagno e quindi questi estrogeni vengono scaricati, vengono sì filtrati, quelle acque vengono filtrate. Ma non esiste un filtro per gli estrogeni e quindi gli estrogeni tornano in alla fine e ci li beviamo noi. Tutto il nostro mondo è pieno di estrogeni al giorno d'oggi. Anche questo microfono, letteralmente questo cosino di plastica con cui stavo giocando, la plastica è piena di estrogeni. Ovviamente questo nel corso degli anni, nel corso di 200-300 anni, ha portato al fatto che noi siamo fottuti adesso, in questo momento. Ma Branf, cosa c'entra il testosterone col fatto che procrastino con le mie abitudini negative, con le mie abitudini positive? Bene, il testosterone c'entra perché il testosterone fa sì che tu senti il duro lavoro come piacevole. Gli uomini con un alto testosterone sentono il duro lavoro molto piacevole. Il testosterone alto rende il duro lavoro appagante, bello. Quindi capisci che se hai 300 di testosterone e dovresti, non lo so, allenarti è un po' difficile perché appunto tu vuoi allenarti, capisci che è giusto, ma sai che è faticoso. Invece una persona con un testosterone più alto vuole allenarsi? Lo fa perché è piacevole per lui. Il testosterone rende il duro lavoro bello. Io mi sono misurato il testosterone tempo fa, ma ero ancora immerso nelle cattive abitudini, quindi ovviamente sarà più basso di quanto è realmente, di quanto potrebbe essere. E quando l'ho misurato era 750 nanogrammi su millilitro cubo, che comunque è tantissimo. Altri miei amici se lo sono misurati non c'erano minimamente paragonabili al mio. Questo può spiegare anche il fatto per cui mi crescono tantissimi peli, cose simili, ma il mio obiettivo è arrivare sopra i mille. E quindi sì, ti dico che è possibile aumentare il testosterone. È possibile aumentarlo e tu ti dovresti concentrare sull'aumentarlo se sei un uomo. Perché il testosterone rende la tua vita migliore sotto ogni aspetto, non solo rende il duro lavoro migliore, migliora completamente il tuo essere uomo. Adesso ti dirò una cazzata, una mia teoria, prendila con le pinze, ma i bodybuilder che si topano, quindi che hanno il testosterone alto, non ti sto dicendo di toparti perché è bruttissimo, ha 10.000 effetti negativi, ma hanno il testosterone alto perché si topano e nel 90% dei casi sono anche persone di successo nella vita, cioè hanno macchinone, cose simili. Ti sei mai chiesto perché? Beh, io mi do una spiegazione. Io penso sia perché hanno realmente il testosterone alto. Ovviamente non esistono conferme di questo, non esiste uno studio scientifico che attesta che se hai il testosterone alto hai più successo nella vita, ma io penso proprio di sì. Ovviamente è difficile in maniera naturale aumentare il tuo testosterone, ma ci sono delle accortezze che puoi seguire per aumentarlo e devi far sì che la tua vita sia ottimizzata al 100% per ottenere veramente un aumento di testosterone considerevole. E adesso ti elencherò le cose da fare per far sì che il tuo testosterone aumenti. Prima cosa, mangiare grassi sani. Molti dicono no, i grassi fanno male, i grassi fanno male. Beh, no. Ovviamente se tu mangi l'olio di palma o comunque olio di semi, oli strani ovviamente ti fanno male, ma tu devi andare a preferire i grassi come burro, burro puro biologico, oppure olio di oliva, olio extravergine d'oliva al 100% e non fanno male, anzi fanno aumentare il testosterone. Un'altra cosa che puoi fare per aumentare il tuo testosterone è eliminare completamente gli zuccheri. Poi devi smettere di bere alcol, ovviamente non ti dico le cose più banali, è ovvio che non devi fumare, è ovvio che non devi fare tutte le abitudini negative che conosci, soprattutto bere alcol. Bere alcol abbassa il testosterone di tantissimo. Prendi della vitamina D, ovviamente se i tuoi valori di vitamina D sono bassi, dovresti farti delle analisi prima. Vai a ridurre i livelli di stress, perché riducendo i livelli di stress il tuo testosterone aumenta. Perdi peso se necessario, infatti io devo perdere peso, ancora non sono al massimo potenziale del mio testosterone perché appunto sono ancora grasso. La cosa più importante, la più importante di tutti secondo me, migliora il tuo sonno. Fai dalle 8 alle 9 ore di sonno sano e non basta dormire per dire ah ok ho dormito 8 ore, no, deve essere una qualità del sonno buona e per avere una qualità del sonno buona devi fare tutte le altre abitudini positive, quindi è tutto un circolo vizioso. Se tu fai tutte le abitudini positive, le abitudini positive andranno a migliorarsi tra di loro perché fare tutte le abitudini positive migliora il sonno, però migliorando il sonno migliori anche come fai le altre abitudini positive ed è un circolo virtuoso. Mangia abbastanza zinco nella tua dieta e il tuo testosterone aumenterà. Allenati ad alta intensità, ovviamente tenendo conto dei livelli lo stress di cui abbiamo parlato prima e prova a fare il digiuno intermittente. Puoi partire da un 16-8, quindi digiuno 16 ore mangio per una finestra di 8 ore, quindi magari salti la colazione, mangi a pranzo, fai la merenda, cena e poi smetti di mangiare per le prossime 16 ore. Oppure se hai dell'esperienza col digiuno intermittente puoi provare dei digiuni veramente tosti come il 23-1 che ancora io non riesco a fare, per esempio, anche se faccio danni il digiuno intermittente di 16-8. Il digiuno 23-1 consiste nel digiunare per 23 ore e mangiare in una finestra di un'ora, quindi in quell'ora devi mangiare tutte le calorie giornaliere, un unico pasto, anche chiamata dieta OMAD, one meal a day, un pasto al giorno. Bene, queste erano le direttive diciamo principali per migliorare il tuo testosterone, ci saranno altri video dedicati al testosterone, sappi che incrementando il tuo testosterone, comunque facendo le abitudini positive per incrementarlo, anche se non dovesse salire, tu comunque riuscirai a avere delle cose positive, perché ovviamente tutto quello che ti ho detto in questo video, anche se non fosse collegato col testosterone, fossero tutte cazzate, ti ho detto solo cose positive per la tua salute, eliminare gli zuccheri, non bere, non fare le abitudini negative, eccetera, eccetera, eccetera. E una volta che il tuo testosterone sarà incrementato, allora avrai la disciplina e sarai più propenso a non procrastinare. Quindi parti introducendo piccole abitudini di quelle che ti ho detto oggi in maniera che non sia troppo uno sforzo per te, per poi arrivare a un punto dove puoi fare veramente grandi cose. Spero che questo video ti sia stato utile, se sei arrivato fino a questo punto penso proprio di sì. Quindi iscriviti, attiva la campanellina e lascia un like e noi ci vediamo al prossimo video.